Musica Incredulità e dolore per il delitto di Anastasia, al giorno dei funerali sarà lutto cittadino e verrà illuminato, un monumento in segno di speranza, convalidato il fermo e disposto il carcere per l'ex marito accusato di omicidio. Mercoledì pomeriggio a Monbaroccio, l'ultimo saluto a Milena, la 14enne morta dopo l'incidente di Ponte Valle. Illuminazione a LED e risparmio in bolletta del 43%, entro due anni a fanno verranno sostituiti tutti i corpi illuminati. In Ereco investe sull'area ex acquaterra di San Lorenzo in campo, nasce un polo agrotecnologico per la produzione di alghe e di energia, nuovi posti di lavoro e collaborazioni con le università, i centri di ricerca e il tessuto imprenditoriale del territorio. Sindaco Seri lancia a cuore comune con un premio ai fanesi meritevoli, che spesso in modo anonimo e silenzioso aiutano il prossimo o danno lustro alla città. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con l'omicidio di Anastasia che ha sconvolto l'intera comunità marchigiana. Il sindaco Massimo Seri ha annunciato che nel giorno dei funerali non ancora stabilito sarà lutto cittadino e verrà illuminato un monumento ad esprimere vicinanza ai familiari, soprattutto al bimbo di due anni, rimasto orfano di madre, il vescovo Armando Trasarti. Il nuovo gravissimo episodio di femminicidio avvenuto nella nostra regione a pochi giorni dalla ricorrenza della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ci rende ancora più consapevoli dell'impegno massimo necessario per fermare questi reati atroci. Così la presidente della Commissione per le pari opportunità della regione Marche, Maria Lina Vittorini, in riferimento al delitto di Anastasia, la 23enne uccisa con tre coltellate sul collo e sull'addome. I carabinieri alla stazione di Bologna hanno arrestato per il reato di omicidio l'ex marito Mustafa Alashiri, 43enne, di origini egiziane, padre del loro bimbo di due anni. Con lui Anastasia aveva fatto il viaggio della speranza da Kiev all'Italia nello scorso mese di marzo. Lei aveva trovato lavoro all'Osteria dalla Peppa, lui alla pasticceria Cavazzoni di Via Mattei. Il rapporto di coppia però era diventato conflittuale, al punto che la giovane venerdì scorso lo aveva denunciato per maltrattamenti dopo aver lasciato la casa in cui abitavano in Via Trieste a Lido. Domenica mattina la ragazza era tornata lì per prendere alcuni effetti personali e trasferirsi altrove, ma secondo la ricostruzione dei carabinieri sarebbe scoppiata l'ennesima lite. Sono seguite la denuncia di scomparsa da parte del nuovo compagno, ore di ricerche senza sosta e alla fine, intorno alle 4, il ritrovamento del cadavere chiuso in un trolley gettato in un campo a Belgatto di Fano. Il prossimo 25 novembre, come dichiarato da Vitturini, verranno ricordate la 23enne e tutte le donne che continuano a morire vittime di maltrattamenti, abusi, violenze fisiche e psicologiche. Ad inviare una nota sull'accaduto, anche il vescovo Trasarti, che a nome di tutta la diocesi, ha espresso vicinanza ai familiari di Anastasia e in particolare al bambino rimasto orfano ad appena pochi anni di vita, privato in maniera violenta di colei che lo ha messo al mondo. Trasarti ha rivolto un pensiero e una preghiera anche a tutta la comunità ucraina presente nel nostro territorio, colpita gravemente da questo lutto che ha lasciato sgomenta l'intera città. Ancora increduli i vicini di casa e i loro datori di lavoro e i titolari dei negozi situati nelle vicinanze dell'abitazione. La notizia è stata un crescendo perché all'inizio che era successo qualcosa si percepiva, però non di così grave. E purtroppo invece, ecco, gli eventi sono quelli che sono. La conoscenza, sì, la conoscevamo, però come puoi conoscere una persona che, ecco, io ho un'attività, ho un alimentare, quindi stava qui a 20 metri. La conoscenza poi era un pochino più particolare perché come negozi attraverso i nostri clienti abbiamo per un periodo, li abbiamo aiutati come famiglia, come facciamo con altre famiglie che sono in difficoltà facendo delle spese solidali. E quindi quando sono arrivati dall'Ucraina per alcune settimane abbiamo portato cibo, alcuni clienti hanno portato giocattoli per il bambino e ovviamente si è installato un rapporto, soprattutto con lei, con la ragazza purtroppo. E quindi lei dopo frequentava il negozio, c'è stata anche la settimana scorsa comprare qualche cosina col bambino e lui un po' meno si vedeva, però ecco, ogni tanto intercettavamo anche lui. Però ecco, sì, si conosceva, ecco, questo era il grado di conoscenza. Come vi sembrava come ragazza? Guarda, la conoscenza, come posso dirti, è superficiale, però era come appariva, cioè una ragazza molto serena, solare, molto delicata, una bella persona, cioè gentile fino a, ecco, quasi esagerata. Lei non smetteva mai di ringraziare per quello che facevamo, voleva sempre contrapagambiare, anzi, si era anche offerta di venire a lavorare qui da noi gratis per ricambiare la gentilezza, che ovviamente non l'abbiamo accettato, ma una, ecco, una bella persona. Ecco, io anche, ecco, ho ancora questa immagine di, mi sembra giovedì o venerdì scorso, è venuta a fare la spesa, ecco, di sorriso, era soltanto sorriso, questa ragazza bionda, occhi chiari e un gran sorriso. Quel sorriso che è stato spento per sempre, il sindaco Seri proclamerà una giornata di lutto cittadino per il giorno dei funerali non ancora fissati. E' stato convalidato il fermo ed è stata disposta alla custodia cautelare in carcere per l'ex marito interrogato dal giudice in carcere a Bologna. L'uomo, come riporta l'agenzia ANSA, avrebbe fatto alcune ammissioni, in particolare sul litigio con la donna che aveva deciso di separarsi. Degli atti della convalida si è occupato il PM bolognese Giampiero Nascimbeni che trasmetterà il fascicolo per competenza territoriale alla procura di Pesaro. Si svolgeranno invece domani pomeriggio, mercoledì alle 14.30, nella chiesa dei Santi Vito e Modesto a Monbaroccio i funerali di Milena Lentini, la ragazza di 14 anni che ha perso la vita dopo quattro giorni dal tragico incidente tra due auto avvenuto a Pontevalle nel comune di Pesaro. E il sindaco Emanuele Petrucci ha proclamato il lutto cittadino per l'intero arco di tempo in cui avrà luogo il funerale. Inoltre ha disposto l'esposizione della bandiera a mezzasta negli edifici pubblici e invitato i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto e in particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie. Prosegue lo sciame sismico con epicentro a largo della costa marchigiana. La notte scorsa a mezzanotte e 10 un movimento tellurico di magnitudo 3.5 è stato avvertito da tanti marchigiani che lo hanno commentato sui social. Intorno alle 5 poi è stata registrata un'altra scossa di magnitudo 2.9 con epicentro a largo della costa pesarese ma non è stata percepita dalla popolazione. Intanto sono arrivati a 1.443 i sopralluoghi e le verifiche sulla stabilità degli edifici effettuati dai vigili del fuoco nelle province di Ancone e Pesore Urbino. Nella giornata di oggi sono state due le problematiche più gravi. Un edificio in via De Gasperi ad Ancona dove non è stato necessario procedere all'evacuazione in quanto già oggetto di lavoro in corso è stato reso inagibile. E poi una scuola a Montemarciano dove sono risultati non fruibili dei locali interni. Ancora cronaca perché nei giorni scorsi si è conclusa un'ampia attività di controllo sulla filiera della pesca condotta dai comandi della Guardia Costiera delle Marche lungo la costa da Gabice a San Benedetto del Tronto e nell'entroterra regionale. In totale i militari hanno effettuato 56 attività ispettive su pescherecci, pescherie, ristoranti, venditori ambulanti, grande distribuzione organizzata e piattaforme logistiche. All'esito delle verifiche sono state elevate 18 sanzioni amministrative per un valore di circa 23.700 euro. Inoltre sono stati eseguiti 15 sequestri di prodotto ittico di diversa tipologia e specie per un totale di circa 153 chili. In particolare in un ristorante situato nel comune di Ancona è stata accertata la presenza di 30 chili di prodotto ittico pronto per essere servito alla clientela ma privo delle documentazioni che ne attestassero la provenienza. Infine i titolari di due esercizi commerciali sono stati anche segnalati all'autorità giudiziaria per frode in commercio e detenzione di prodotto ittico in cattivo stato di conservazione. Cambiamo argomento. In meno di due anni tutta l'illuminazione pubblica fanese sarà convertita a LED grazie a un progetto del comune di Fano in collaborazione con ASET SPA. Grazie alla sostituzione di 9.200 corpi illuminanti si potrà ottenere un risparmio annuo del 43%. L'illuminazione pubblica della città fanese è svolta verso la tecnologia moderna a LED. Il comune di Fano in collaborazione con ASET SPA ha presentato nella giornata di ieri il nuovo progetto che prevede la sostituzione di 9.200 corpi illuminanti di vecchia generazione ovvero quelli a sodio ad alta pressione di colore giallo-arancione con lampioni a LED a luce bianca. Questa riqualificazione rappresenta una risposta al caro energia con un risparmio stimato del 43%. I tempi previsti di realizzazione sono tra i 15 e i 16 mesi. Al contempo però implementare anche l'architettura del sistema di telecontrollo che è già in essere nell'impianto cittadino che ci consentirà oltre alla possibilità di verificare lo stato di ciascun punto luce anche di procedere a riduzioni di flusso di potenza e in questa fase in cui il prezzo dell'energia elettrica sta subendo variazioni davvero importanti con oscillazioni che mettono anche a rischio il bilancio delle amministrazioni comunali questo sistema intelligente ci consentirà eventuali azioni sia di spegnimento se autorizzate ma anche di riduzione di potenza. Il progetto prevede la sostituzione di circa 9.000 punti luce quindi con una riduzione di consumo ipotizzato sull'arco annuale del 43% quindi andremo a risparmioare circa 2 milioni di kilowattora all'anno quindi un numero davvero importante che ci consentirà di finanziare un investimento di circa 3 milioni e mezzo di euro. L'intervento prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti cioè la struttura resta la medesima dentro, per parlare in maniera molto semplice le lampade vengono sostituite e vengono inserite le lampade a led quindi lampade a incandescenza vengono sostituite con lampade a led il tutto consuma molto meno energia elettrica ed è assolutamente non inquinante perché tutti i tipi di lampade ad incandescenza che avevamo prima comunque avevano anche un problema dal punto di vista ambientale nel caso di rottura qui c'è la sostanza, qui ci sono i metri cubi di CO2 risparmiati qui abbiamo un reale efficientamento la cosa importante è che non dobbiamo dimenticare che l'intervento di Aset prevede una strumentazione all'avanguardia importantissimo per il comune ma non solo, prevede anche un sistema di monitoraggio e controllo questo ci può portare a mettere in campo delle politiche di gestione della risorsa e dell'illuminazione che saranno fondamentali in caso di un eventuale nuovo aumento dei prezzi dell'energia elettrica e nei prossimi mesi verrà anche consolidata la cinta muraria della Rocca Malatestiana di Fano l'intervento verrà eseguito su una parte, lato ferrovia, lungo circa 30 metri Interventi alla cinta muraria della Rocca Malatestiana di Fano Assessore, di che cosa si tratta? Si tratta di un intervento di consolidamento di quello che è la cinta muraria a ridosso della Rocca Malatestiana parliamo della cinta muraria proprio che si affaccia alla ferrovia un intervento che avevo segnalato a RFI nella pulizia di quello che è la vegetazione infestante che si era proprio radicata sulla muratura in seguito a quella pulizia purtroppo ahimè gli operatori avevano notato che una parte di quell'apparato stava scendendo e quindi stava diventando pericoloso ora andiamo a riconsolidare diciamo tutto quello che è la massicciata quindi tutto quello che è la parte della muratura precisamente verrà allestito il cantiere senza interferire poi con la ferrovia ci sarà un consolidamento di quelle che sono le parti scollate con un risaldamento di mattoncini attraverso delle malte a base di calce tutto questo sarà per un'estensione di 30 metri un'altezza di 3 metri su quello che appunto è il perimetro a ridosso della Rocca Malatestiana che si affaccia alle ferrovie ricordiamo per un costo totale di 100.000 euro lavori che verranno affidati per il mese di dicembre per cui ecco dovrebbe essere anche abbastanza tempestivo un lavoro che va a preservare una delle mura difensive della città una delle mura più antiche della storia per il quale naturalmente ci adoperiamo nella salvaguardia a San Lorenzo in campo invece è stato presentato il polo tecnologico di Enereco un progetto che prevede un laboratorio di coltivazione alghe un parco agrivoltaico e una piattaforma di ricerca ricadute importanti anche dal punto di vista economico e occupazionale nella fase iniziale si stimano 20 nuovi posti di lavoro l'ex aquater di San Lorenzo in campo avrà una seconda vita grazie a Enereco realtà internazionale con una forte esperienza nella fornitura di servizi di ingegneria personalizzata gli spazi abbandonati verranno riqualificati per creare progetti innovativi di economia circolare nascerà infatti un grande polo scientifico agrotecnologico di eccellenza sotto il nome di Ergeva l'investimento iniziale sarà di 8 milioni di euro per acquistare sito recuperare il capannone industriale per le microalghe e avviare il sistema agrivoltaico una fase che come spiegato dal presidente di Enereco Claudio Avaltroni potrebbe chiudersi entro il primo semestre del 2024 inoltre si stima un coinvolgimento iniziale di circa 20 persone tra operatori, tecnici e ricercatori per poi puntare entro il 2030 ad ulteriori investimenti per un totale di circa 20 milioni di euro andremo a produrre delle microalghe e quindi in ambienti assolutamente chiusi in assolutamente protetti per il quale sostanzialmente non ci sono assolutamente emissioni e poi uniamo a questa produzione di microalghe c'è un progetto di agrofotovoltaico portato avanti insieme alla Politecnica delle Marche che è appunto la volontà di perseguire praticamente studiare la possibilità di avere la produzione di prodotti agricoli in un ambito assolutamente di sostenibilità e al tempo stesso coniugare la produzione di energia elettrica che possa essere poi ceduta alla comunità con dei vantaggi anche per la stessa comunità la futura struttura sarà suddivisa in tre aree di interesse il laboratorio di coltivazione alghe il parco agrivoltaico e la piattaforma di ricerca Ergeva vuole creare un polo tecnologico che rappresenti il punto di incontro tra le università, i centri di ricerca e il tessuto imprenditoriale del territorio interessato ad intraprendere e condividere progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito della transizione ecologica con particolare attenzione al connubio agricoltura, energia e ambiente Da qui in avanti l'obiettivo è quello di creare appunto un progetto in cui abbiamo due realtà produttive in cui coniugheremo la coltivazione di microaghe per il mercato nutraceutico e farmaceutico perché le microaghe saranno una fonte del futuro un cibo del futuro ma soprattutto un sistema per purificare i residui organici delle acque e quant'altro ma poi coniugarlo con l'agricoltura quindi avere una coltivazione di pregio del nostro territorio su delle filiere come la birra come il ciliegio coniugando la generazione appunto elettrica da fotovoltaico sopraelevato quindi avere sullo stesso terreno la coltura e il fotovoltaico integrandoli con un'agricoltura 4.0 La piattaforma di ricerca invece attraverso finanziamenti e bandi sarà sviluppata in collaborazione con le principali università regionali, nazionali ed europee saranno previsti laboratori, visite didattiche e impianti sperimentali inoltre sono già state strette sinergie attraverso dottorati e convenzioni con l'Università Politecnica delle Marche con l'Università degli Studi dell'Aquila e con l'Alma Master Studiorum Università di Bologna Un progetto di sviluppo, un progetto totalmente votato al futuro futuro per i nostri territori, per i nostri giovani per le persone che vogliono rimanere qua e vogliono farlo con convinzione anche per le tante persone che dopo un percorso di studi importante invece che magari andare fuori regione o all'estero possono trovare lavoro in queste zone, in questi nostri territori Un hub, un polmone di innovazione all'interno, nel cuore della vallata del Cesano dal quale possono poi partire dei progetti innovativi per il resto della regione, della nazione e di tutto il mondo E adesso le vostre segnalazioni Un residente di Metaurilia di Fano segnala una ventina di pneumatici abbandonati lungo la strada che dalla Nazionale Adriatica Sud conduce al New Regina Beach esattamente prima del sottopasso Altre foto invece ci arrivano dal centro storico di Fano davanti alla chiesa di Stampa Terniano ha scritto eronicamente un reporter è bello vedere un'esposizione di biciclette e dire che dobbiamo offrire le bellezze di Fano E rimaniamo a Fano perché il Comune ha istituito il giorno del ringraziamento Domenica 4 dicembre in teatro verranno premiati quei volontari silenziosi che hanno fatto qualcosa di bello per la città chiunque può segnalare il nome di chi rappresenta il cuore comune Un grazie dalla città alla città affinché vengano riconosciuti i meriti di coloro che si donano e si mettono a servizio degli altri senza chiedere nulla in cambio il sindaco Massimo Seri ha presentato cuore comune l'iniziativa che si terrà domenica 4 dicembre alle ore 17 al teatro della Fortuna di Fano durante la quale verrà dato un riconoscimento a chi ha portato dei benefici o prestigio alla città sono diversi infatti coloro che in maniera anonima e silenziosa mettono a disposizione il proprio tempo risorse e competenze per aiutare il prossimo o spesso dare lusso a Fano le figure segnalate entro il 19 novembre verranno valutate da una giuria che ne selezionerà 4 i vincitori poi oltre a ricevere un premio a forma di cuore durante la cerimonia entreranno a far parte di un apposito albo a loro verranno riservati due posti in platea per assistere gratuitamente per un anno agli spettacoli teatrali Sindaco, è un'iniziativa che lei ha voluto fortemente? Sì, perché io penso che un'amministrazione una comunità è tale quando riconosce il merito di chi fa qualcosa per la propria città e allora cuore comune vuole essere una giornata dove Fano attraverso il Sindaco, attraverso la sua amministrazione dice grazie a tutte quelle donne, a tutti quegli uomini che fanno delle cose volontariamente, gratuitamente per la propria città che lo fanno in modo spontaneo e questi sono il vero patrimonio che fanno alcune volte la differenza io vorrei dire i veri cavalieri del nostro tempo per cui ci sono quelle persone che rimangono alcune volte anche anonime quando fanno queste cose belle che le troviamo nel quartiere, in una parrocchia, in un'associazione singole persone che tengono cura del proprio spazio dove vivono un quartiere, per esempio un gruppo ecco, mi sembrava giusto fare questo momento e allora abbiamo, ho pensato, perché devo dire è una mia idea, anche venendo da questa sensibilità che ho sempre avuto perché io penso che il valore più importante siano le persone la persona deve essere sempre al centro e quando ci sono anche questi bei esempi non è tutto scontato qui troppo c'è questa cultura di tutto scontato non è vero che è tutto scontato e quando qualcuno o qualcuna fanno qualcosa di importante diciamogli grazie ecco, il 4 dicembre perché il 5 è la giornata internazionale del volontariato quindi facciamo questo momento cuore comune daremo qualche riconoscimento ma è per, alcune volte lo si fa per arricchire la giornata ma in realtà vuole essere questa testimonianza per cui vi invito anche a segnalarmi se conoscete delle donne e degli uomini o in un'associazione o singoli cittadini o perché sono in una parrocchia o che fanno qualcosa di veramente bello genuino e allora se ce lo segnalate che magari gli diamo un riconoscimento anche noi venerdì 18 novembre alle ore 17 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano il dottore Alberto Patriti direttore del Dipartimento di Chirurgia dell'azienda Marche Nord terrà una conferenza dal titolo Non sono un meccanico curare le persone e non gli organi l'incontro è organizzato dall'Università dei Saperi Ed ora lo sport con il trionfo di Marzia Ottaviani al campionato italiano individuale di Maratona Master nella categoria F55 cioè la fascia di età che va dai 55 ai 59 anni al campionato che si è disputato domenica 13 novembre a Ravenna Marzia è arrivata a 22esima assoluta una grande vittoria che si aggiunge a quella del 2019 quando aveva conquistato suo primo titolo Master nella categoria F50 Bene, subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale sulla presentazione del progetto Ergeva il polo scientifico agro-tecnologico che è stato presentato a San Lorenzo in campo Grazie per essere stati con noi e arrivederci a domani Grazie per la visione